buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo una lente di ingrandimento di elevata qualità è una lente di un buon diametro è bella grande ed è di vetro in questo modo vediamo il funzionamento di una lente il principio di funzionamento e vediamo l'importanza di avere un vetro di qualità vedete anche lo spessore è una lente di fabbricazione russa e avrà circa 20 anni diciamo potrebbe essere un pezzo da collezione grazie per la visione e vi aspettiamo al nostro prossimo video buona giornata grazie a tutti grazie a tutti